buongiorno a tutti questo è un piccolo video di aggiornamento sul progetto che avevo detto di convertire quella carrozza in alternata per adesso attraverso un decoder di funzione ci siamo riusciti tanto è vero che siamo riusciti a ottenere già il controllo delle luci bianche e rosse peccato in modo invertito nel senso che non essendo stato ancora programmato ma essendo in modalità di fabbrica in questo momento il treno per lui sta andando indietro peccato che essendo una carrozza pilota quando il convoglio va nell'ipotetico indietro in realtà lei è davanti e quindi dovrebbe avere le luci bianche accese inoltre non essendo programmate le funzioni le uscite delle funzioni tutta la parte di illuminazione interna non è ancora non funziona però a testimoniare il fatto che funzionerà è che se io vado a collegare manualmente il cavo direttamente alla fonte energetica queste funzionano quindi la parte di cablaggio in sé è completa è stata riuscita quindi siamo anche riusciti a montare il pattino qui sotto è stato abbastanza uno scempio ammetto farlo però ci siamo riusciti e quindi siamo già a un punto dell'opera adesso devo trovare solo poi un modo che mi permetterà di programmare il decoder per impostarlo nel modo corretto e nel modo in cui poi dovrà andare a funzionare una volta che il vagone verrà riassembrato quindi ho fatto la conversione in analogico o meglio come la sto facendo una volta aperta la carrozza ho notato subito che il sistema elettrico in realtà era composto in prese di corrente positivo negativo dal carrello posteriore collegato direttamente ai led superiori davanti invece dal carrello partivano sempre due pioli che andavano a una schedina elettrica sui quali erano saldati il led bianco e il led rosso che danno illuminazione della parte davanti questo led poi aveva la presa a otto poli il quale era ponticellata per dare il passaggio di corrente senza il decoder la prima cosa che ho fatto quindi è stata nel carrello posteriore che tanto sapevo che se ando più dietro potevo anche commettere degli errori quindi era nascosto è stato smontarlo quindi è di saldare i due poli dal carrello posteriore all'illuminazione sopra come anche indicato nel manuale perché giustamente l'editor ha ricevuto la corrente solo da una parte e non da dietro tolto quello nello smontaggio essendo le prime aree mi ho fatto un po' uno scempio infatti una delle due mollette di uno dei due poli è andata distrutta amen forca miseria amen ho lisciato tutta la parte sotto così e ho montato il pattino in realtà un pattino della marketing che ho adattato tagliato e lisciato pure lui per farlo compacciare il più possibile goccio di colla a lei con lo scempio fermo modellisti non guardate questo video se no mi deminciate poi dato che il tipo di carrozza ad un certo livello aveva tutto di fianco alla parte alla zavorra centrale delle canaline predisposte dal produttore per far passare i fili dal carrello posteriore al carrello anteriore questo per il funzionamento in digitale quindi ho usato quelli da una parte ho collegato l'ultima molletta che c'era come messa massa quelle davanti quelle del carrello davanti infatti le ho ponticellate fra di loro in modo tale che non fossero più separate ma collegate questo perché essendo andato in continua l'asse era elettricamente isolato poi ho collegato le due masse davanti alla massa dietro facendo correre un cavo il pattino l'ho fatto collegare da dietro e l'ho portato davanti sulla schedina elettrica dove c'erano prima il pol positivo il pol negativo messo positivo il pattino negativo la massa che sia se funzionava al contrario bella domanda che sia se funzionava al contrario ho fatto la prova che tutto funzionasse essendo il decoder programmato di fabbrica lui pensa di essere su una locomotiva quindi quando in realtà il treno va in avanti lui dietro accende le luci bianche perché pensa di essere davanti ora credo che questo sia solo un problema di programmazione perciò quando riuscirò università permettendo e mezzi permettendo perché non ho nulla per programmarlo dovrò invertire due valori in modo tale che quando il treno va avanti lui accende le luci rosse e quando va indietro accende le luci bianche per il resto in realtà essendo un decoder per funzioni ha quattro uscite aux disponibili quindi una sarà legata poi ai led nel quale leggevo che per via dell'intensità erogata avrà bisogno di una resistenza per evitare un sovraccarico e una fusione della parte del led sopra e boh per il resto non è stato difficile anche perché essendo giusto prodisposto di fabbrica ho dovuto fare un paio di scempie per mettere in fattile ma per il resto tutto ok vedremo mezzi università permettendo quando riuscirò a programmare il decoder a pulire del progetto quello sarà un altro video e buona fortuna a me Grazie 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 Grazie